www.feyyaz.tv Papà, ti devo dire una cosa importante. Questa è la famiglia, non parla più. Questa è la biazza, papà. Questa è la famiglia. Questa è la famiglia. Ehi, Pietro, che fai qua? Sono venuto a restituire la testa di mio figlio, il segretario. A lui non gli serve più. Salvatore! Salvatore! Pietro! Pietro, vieni qua! Siccondendo la figura che mi hai fatto fa davanti a tutti i compagni, o no? Siccondendo, Salvatore! Eh? Dopo tutto quello che ti abbiamo insegnato, io e tua madre. Siccondendo? Io quando è per un cielo, Salvatore, io ti volevo essere morto. Sì, non è un mariole. E io sono l'attore di un mariole. E te la fai pure dei prenti, te la fai. Camille, disgraziato.